Musica Può fare questo tipo di discorso Ora cominciamo con una sorta di arte Bambu stick Quattro Molto bello, questo è il primo risultato della nostra esperienza Ok, 1, 2, 3 Ok, questo ho dovuto ricordare Credo che ora è il mio turno Wow Wow It looks all simple, but it is not simple Wow, bellissimo Ok, so there is no limit to the fantasy for all possible forms and shapes, but most important is the consistence I call Michelangelo of Cappuccino Yeah Oh, oh, oh Eh Eh Buonissimo Si Wow So Really amazing Yeah Può fare anche così Aspetta Adesso le faccio vedere un'altra cosa No Do you want to bring Danilo with you? Do you want to bring Danilo with you to a Yeah, 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 yeah This would be fantastico Yeah, ok Yeah, so I will translate them into German An important And, yeah The stuff L'ho venduto, Danilo Grazie Danilo, sono molto contento con voi Ho detto, se ti volevo portare a Rindau Volentieri Un buon professor Professor Prego Ok What's up? da solo da solo? ok cappuccino ok ok cappuccino sempre diritto qui così vai ok prendi lentamente ok ok caffè ok un caffè ok limpiare so we have to clean it now one this is 7 gram approximately so now I have to tamp and so here now I have to look 18, 19, 20 2, 3, 4, 5 stop stop attenzione versiamo si adagio deve venire di due colori poi ti dico adagio ok due colori? due colori adagio oh ma mamma mia ok no 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 going to ok ok basta così stop ok Due colori quasi due colori now cream on top that's the first time I'm seeing this something for our beautiful women I guess two colori ah perfetto wow how is this called? we call it viennese ok viennese ok so the things that you can do are many can you try it? for me it's the first time mmm oh yeah it's difficult to get to the with a cup without a spoon it's impossible ok so first you can do but you can do it you can do it ah here now that's now the womanizer coffee I guess ok excellent oh this is really something you can get addicted to ok so attention we I I I I Grazie a tutti.